Sto ancora una volta con la seconda edizione di Tamurriata Bionda, sottolineare questo momento importante dove praticamente rispondendo proprio a quelle che sono le attività dell'associazione, quelli che prima erano pazienti, quelli che sono utenti del centro, possono esprimere la loro cittadinanza attiva, possono far parte dei nostri progetti, possono realizzarli insieme a noi. E questo ci rende molto, ci dà una grande gioia assolutamente e la nostra gioia la esprimiamo appunto il 13 ottobre che sarà venerdì alle Terme di Agnano dove ci sarà questa festa bellissima con il maestro Carlo Faiello che è il direttore artistico di questa manifestazione dove lui ci tiene molto a specificare che quello non sarà un concerto, non è un fatto artistico. Come mi dice simpaticamente e scorsosamente è nata cosa, noi dobbiamo stare lì e la musica popolare, attraverso i balli popolari, dobbiamo fare uscire fuori tutte le nostre energie e diventare uniti.